Avrebbero messo sul mercato carne equina, abusivamente congelata e sulla quale venivano posti falsi timbri per simulare i bolli sanitari. Un traffico di macellazione clandestina è stato fermato dai carabinieri dei NAS di Catania e Ragusa nel comune di Rosolini in provincia di Siracusa. Sequestrate due aziende, diverse aree inquinate, una macelleria e 5 tonnellate di carne equina per un valore complessivo di oltre un milione di euro. All'interno della macelleria, inoltre, i militari hanno trovato la bollatura sanitaria contraffatta che avrebbe imitato i sigilli dei veterinari delle aziende sanitarie all'interno dei mattatoi al fine di attestare le condizioni di salute degli animali macellati e l'idoneità delle carni destinate al consumo umano. Vicino al luogo di macellazione è trovata anche un'azienda agricola con annesso mattatoio clandestino al cui interno i carabinieri hanno sorpreso un uomo intento a macellare un equino di dubbia provenienza in ambienti e con attrezzature prive delle opportune condizioni igieniche. Scovato anche un allevamento abusivo costituito da 40 equini di origine sconosciuta e nascosti ai controlli dell'autorità sanitaria denunciati i proprietari delle strutture.